Ma ho ucciso, sparato si è sparato, adesso sapere con precisione se li hai ammazzati, e lì ne sono morti tre quella sera lì, di tedeschi, che poi erano sepolti lì alla colonia di Busana. Io ti dirò che se avessi ammazzato una persona che quando mi guardava sarei pentito anche adesso, perché ammazzarle è sempre un lavoro mio bello. Però sono sempre stato di quest'idea io, quando uno lo merita, che ha fatto del male, e sono contro le torture io, proprio anche per avere notizie così, proprio una cosa che mi ripugna. Ma quando uno ha fatto del male, insomma, bisogna tirarlo via proprio, sì. Alle spie, secondo me, pensavo, non ho mai pensato niente, ho pensato che andavano solo uccise, individuate e uccise, insomma, ecco. Puoi sapere distinguere anche dalla gente in buona fede che finisce lì a della gente invece che in mala fede. Perché questa qui, se prendeva dei soldi dai tedeschi per far ammazzare i nostri, vuol dire che la buona fede lì non è che ce ne fosse tanta, insomma. Non è che avesse il credo fascista, servo il fascismo, insomma. Servire il fascismo per fare del male è anche pagata, è un delitto due volte, insomma, ecco. Questo sentiero che portava su, girava intorno a un cespuglio, proprio così. E a un certo momento vedo un tedesco che viene giù con il tappone in spalla. Allora io avevo il mitra lì, lo punto, infatti lui dopo due passi, il cespuglio non era grande grande, arriva lì e alza le mani. Alza le mani e io prendo il fucile e poi non mi voleva dare la rivoltella. Potevo anche lasciargliela, lasciarlo davanti, però è sempre meglio essere prudente, insomma, ecco. Allora ce l'ho presa e l'ho portato a casa mia. L'ho portato a casa mia e si vede che aveva una gran voglia di latte tedeschi, perché mio padre faceva il formaggio in casa, quelle formagine che adesso sono cercate, allora le odiavamo perché mangiavamo sempre quelle. e ha bevuto un tegame di latte, proprio, erano sul tavolo proprio per preparare il formaggio, ha bevuto un tegame di latte e si era riunita tanta gente all'intorno, no? E mio padre lo guardava, ammirato, perché è stato anche prigioniero lui, no? Però non una parola cattiva nei suoi confronti, proprio come vedere uno avrà avuto la mia età, poco più, insomma, ecco. E poi l'ho accompagnato a Ligonchio, che dopo mi ha raccontato uno di Busana, che l'ha accompagnato lui insieme a altri due tedeschi che erano già lì, gli ha accompagnati a Silano e hanno fatto passare il fronte e sono andati con gli alleati, insomma, ecco. Durante il percorso ma ti hai provato a comunicare? Tu hai provato? Ma ho provato, insomma, cose vuoi, stavamo quasi sempre zitti, insomma, sono fermato lì a una fontanella a bere, eravamo come dire aghesi, insomma, capisci? Lui ormai era come un agnello a questo punto, disarmato, che poi dopo è venuto un altro con me, dopo, venendo su a Ligonchio, è venuto anche un altro armato con me, che era un ex carabiniere, che adesso è morto, Nello Coli, che era poi del paese anche lui.